Allora, signore e signori, inizia il caldo, come il caldo cambiano i paradigmi interpretativi del mondo, talvolta per le persone che sono in una fase estremamente produttiva, gioiescano di questo, perché il sole è espansione, è quel momento in cui si va verso l'esterno, mentre l'inverno, il freddo, è introspezione. Le persone che vivono un momento di affanno vivono l'estate probabilmente con una condizione di, diciamo, si sentono meno schermati, si mettono un po' in troppa evidenza, no? E questa alternanza in realtà è molto importante perché ci consente di comprendere noi stessi, noi stessi siamo compresi da noi stessi soltanto se ci vediamo in tante condizioni, no? Le persone che hanno una vita abbastanza monotona, abbastanza, diciamo, ordinaria, prevedibile, ripetibile, poi non riescono ad avere una considerazione e anche una consapevolezza rispetto a se stessi. Questa è la ragione per cui, quando ho vissuto un mese e mezzo di forte ventura, che era in pratica quasi sempre primavera, estate no, quasi sempre primavera, è un clima particolarmente bilanciato, mi sono detto, ma qui non c'è l'alternanza, e di conseguenza questa monotonia mi metterà in uno stato di non osservare me stesso attraverso quegli scarti che possono esserci nel momento in cui vivo, diciamo, il mio percorso, la mia storia. E infatti il sistema cerca sempre di relegarci in condizioni estremamente ripetibili, uguale a se stesse e modulari, insomma, no? Quindi facciamo veramente molta attenzione, facciamo in modo di avere una vita comunque artistica, ecco, questa è una cosa veramente molto importante. Facciamo della nostra vita un'opera d'arte, scomodando un'idea e un concetto di Oscar Wilde. Non so se conoscete questo personaggio, però è veramente molto, molto, molto particolare, dal cui libro, il ritratto di Dorian Gray, non so se l'avete letto. Però questi grandi saggi meritano veramente di essere letti, perché nel ritratto di Dorian Gray c'è veramente la decadenza dell'anima, c'è tutti i processi della decadenza dell'anima, quello che accade all'anima, quando si corrompe tutte le forme in cui lo fa, ed è veramente molto, molto istruttivo poterlo vedere. Scopriamo anche, no? Che le corruzioni della nostra indole sono, indipendentemente dalla tecnologia che avanza, eccetera, così, no? Dalle discrepanze, no? Però poi le fine sono sempre, sono sempre quelle, no? Quindi ci sono dei deterrenti, che sono per lo più il sesso, le stranazioni dalla vita, le relazioni, quindi alcol, droghe, e il potere. Il potere, l'idea di essere, di essere un po' il buco del cuore del mondo. Ognuno di noi si sente un po' a questa esigenza, anche no? Di sentirsi, di valere, no? Di valere, e l'anonimato in cui sprofonda, e il qualunquismo in cui dilaga, e poi, che ovviamente è voluto, non è una cosa, non credo che sia una cosa, diciamo, ordinaria, fa sì che comunque l'uomo, per esempio, come individuo, per sempre lì, la necessità di emergere, no? E adesso sto parlando di me stesso, e non pensate che sta parlando di voi, che sta dicendo perché voi cercate di emergere. Io sto parlando di me stesso. Questa è una cosa da cui fare veramente molta, molta, molta attenzione, perché tutte le volte che c'è l'ego, succedono due cose. Uno, non si gioisce più. Due, non si risolvono i problemi. Perché semplicemente ci mettiamo al centro del tutto. E al centro del tutto, come osservatore, va bene mettersi, no? Però, se io mi metto, metto la mia necessità, perché l'ego è la necessità, quello che io vorrei essere, se io mi metto, metto la mia necessità al centro del tutto, farò sempre delle cose marginali, periferiche, a quello che io vorrei realizzare, mentre in realtà invece... non ci riesco affatto. Perché spesso si sente, e sento discorsi del tipo, sai, non riesco a risolvere questa cosa perché io nell'altra vita ho rubato, quindi... minchia, ma chi te l'ha detto? Dice, no lo sai, ho spesso dei soldi, ho fatto un corso di risveglio, e c'è uno che le vede queste cose, e mi ha detto questa cosa qui. L'ho fatto bene, lui fa benissimo dirtelo, perché si è pagato per questo, minchia, anche io sta cosa ti direi, se tu mi facchi, minchia. Ma tu ci hai creduto? E dice, certo, perché no? Perché infatti, mi dice, infatti, ho proprio difficoltà, non riesco proprio a risolvere i problemi. minchia, e allora, quindi vi dico, ancora cercando di stimolare un po', no? La sua intelligenza, le chiedo. Bene, quindi cosa potresti fare in questo senso? Cioè, in questo momento devo aspettare che si estingua questa cosa, devo comunque ripartirla, eccetera, hanno quindi ancora questo senso di abbinigazione e colpevolezza. Quello dell'anima, di persone che non hanno l'anima, è un esempio, quello delle persone che dicono di aver commesso dei reati, no? Nella vita passata, addirittura anche delle problematiche, no? Di relazione che ci perpetriamo e ci portiamo dietro, no? Attraverso tutta una serie di interazioni che ci sono state nell'altra vita, così no? E sono un'altra ancora, il karma, il peccato originale, ora noi siamo molto avanti al peccato originale, insomma, nessuno di noi, mi auguro, insomma, che non si senta in difficoltà perché nasce con una colpevolezza intrinseca, no? Però, diciamo, queste persone, a fronte di questa evoluzione, le è stato detto, ma della colpevolezza intrinseca non ce l'hai più, questa è roba vecchia, adesso c'è una cosa esotica che sarebbe il karma, no? Con il karma, quindi hai un karma negativo, devi smaltire il tuo karma. Nei miei 22 anni di buddismo, io per 22 anni ho chiesto, ma questo karma quando finisce? È insondabile. Quando mi sono reso conto che finiva nel momento in cui smettevo di crederci, cioè dopo il mio viaggio astrale, dall'in poi, mi dovete credere, ho avuto una vita che è stata una figata pazzesca. Quindi, il personaggio che noi creiamo, se è un personaggio libero, totalmente consapevole e partecipe al suo destino, può realizzare quello che vuole. Noi viviamo una proiezione rispetto a quella che è la vita con cui abbiamo a che fare con una leggera differita. Quando c'era, perché poi pensavo che comunque occorresse tanto tempo, è veramente quasi simultaneo, cioè il cambio degli scenari simultaneo, quando partecipi in maniera veramente molto attiva alla tua vita, puoi cambiare degli scenari con una velocità veramente incredibile. Per cui, il consiglio che vi do io, poi nel senso se volete credere a persone che staranno con il fatto di poter determinare cosa eravate nell'altra vita e i problemi che avete avuto con le varie persone, se ci volete credere, credeteci, però sappiate che certe persone si nutrano della vostra ingenuità, o della nostra ingenuità, perché anche io sono stato molto vittima rispetto a questo, sono stato per tanto tempo vittima rispetto a questo. Questo nutrimento non solo arricchisce, diciamo, la sua posizione, ma impoverisce la nostra, riducendo verticinosamente la nostra possibilità di esserci, quindi di essere coscienti, di essere presenti. Me la cavo per quanto riguarda il karma, perché cosa credete? Che se dico che il karma non esiste, cosa di cui sono assolutamente convinto, cioè non sono convinto che il karma non esiste. Sono convinto che il karma esiste nella fase iniziale, nei primi momenti, appena inizia la vita di relazione interattiva, cosciente, dove noi ci posizioniamo come individui, dall'in poi si inesca il processo in cui noi abbiamo a che fare, in maniera sfumata ma costante, con tutta la partecipazione attiva della vita relativa a quello che noi siamo, quello che noi fondamentalmente, diciamo, riguarda i nostri contenuti, le nostre condizioni. Però me la cavo in questa maniera. Dico, non lo so, Fingo, non lo so se il karma esiste o non esiste, Fingo perché sulla base della mia convinzione, non che ho la verità, sulla base della mia convinzione, dovrei dire, io credo, comunque, non lo so se il karma esiste o non esiste, quello che so è che da quando io ho smesso di crederci ho avuto una vita della Madonna. E questa è una cosa molto importante. Quindi anche una persona che dice che alcune persone possono avere l'anima e altre persone non possono avere l'anima, succede una cosa molto importante e sottile. Le persone che non hanno l'anima, chi sono secondo noi? Chi saranno? Saranno quelle che ci stanno sui coglioni. Ovviamente, no? Quindi perpetro una discriminante, agevolata da un'autorità, che mi dice che alcune persone non hanno l'anima, e di conseguenza, se dico, cazzo, l'ha detto lui, ancora io mi abnego, divento sempre più suddito, sempre più plebe, così, no? E di conseguenza lo attribuisco a tutte quelle figure che di fatto per me sono ostiche o che comunque di fatto non condivido o voglio, voglio, diciamo, discriminare nella loro condizione. Questo genere di condizioni mi include in un contesto di per sé che comunque è conflittuale. Quindi sono già in un meandro in cui si svolgono determinate condizioni dove in maniera sleale io poi attribuisco dei riferimenti e anche poi costruisco degli equilibri. Comunque vivo una condizione fittizia. Io ho ragione non perché ho dei contenuti, ho ragione perché il mio posizionamento è tale per cui tu sei inferiore. Ma soprattutto, quando noi abbeneghiamo la nostra possibilità di giudizio, che questo è molto deresponsabilizzante, lo riconosco, però questo non ci farà mai gestire la realtà, quando io attribuisco ad altri la mia possibilità di potermi far spiegare il mondo, io divento sempre di più adepto. L'adepto per antonomasia non solo non pensa. Pensare ed essere critico o avere delle idee personali è quanto di più ostile ci possa essere. Quando io ero buddista nella famosa setta e avevo molti idee personali, a dire il vero, non è che mi dicevano che è bello, sei creativo, mettila a confronto con quello che dice il Buddha, che poi non era quello che diceva il Buddha, era quello che diceva la setta, che aveva preso l'insegnamento, l'aveva poi modificato a suo vantaggio, e confrontali, ma che? Mi dicevano Ah, te hai delle idee personali, poi tra l'altro mi chiamo anche Nari, hai delle idee personali, questo ti farà in modo che il demone ti possa prendere. Perché ho pensato, perché ho pensato, sì, perché la mente umana è fallace, la mente del Buddha è assoluta, e di conseguenza loro sono il Buddha, loro rappresentano il Buddha, ero un cretino. Quindi, per gestire la realtà, adesso vediamo tutta una serie di tematiche, prima cosa fondamentale, è costruire il personaggio, più il personaggio guarda lontano, più è facile gestire la realtà, e questa ve la devo rifare, perché probabilmente è entrata, fra le varie cose che ho detto, e le mette insieme alle altre, più è alto il campo di veduta, più è facile gestire la realtà, che bello, questo è un trucco fondamentale, chi è di voi, di noi, chi non vorrebbe sapere un trucco potentissimo, per gestire il più potentemente possibile la realtà, gestione della realtà, vuol dire ottimizzazione delle reazioni, delle risposte del nostro ambiente, in relazione a vari ambiti, che abbiamo visto, che è essere la salute, i sentimenti, le relazioni, la questione esistenziale, l'energia, poi allestando per favore, se le puoi catalogare, così se mi dimentico qualcosa, me le dici, in relazione a questo, cosa io riesco a ottenere, cioè quindi l'ottimizzazione di questo genere di cosa, quindi, estremizia, quindi il trucco è questo, io più sono, guardo il mio mondo, la mia esistenza dall'alto, più riesco ad avere potere, per gestire la mia realtà, adesso estremizziamo due esempi, per rendere più chiaro questo principio, se io sono il pusillanime, il plebeo, il plebeo o l'adepto, che è uguale, e cerco di vivere la mia vita, partendo dal presupposto che faccio schifo, perché il plebeo parte dal presupposto di fare schifo, e anche l'adepto, e quindi cerco di muovermi nella vita, chiedendo sempre scusa al permesso, e soprattutto dando sempre la priorità agli altri, che non vuol dire mettersi in contrasto, no voglio essere io il prima, prima degli altri, vuol dire avere consapevolezza di se stessi, quante persone ci sono, che richiamano rispetto, senza che lo chiedano, perché semplicemente, hanno questa grande consapevolezza di loro stessi, quindi assumono un'aura, un'energia, che difficilmente viene voglia di infrangerla, questo di fatto è il carisma, quello che si chiama poi carisma, quindi una persona nel momento in cui, smette di essere pusillanime, inizia a essere una persona, che sente di esserci, allora a quel punto, inizia ad avere sempre più potere, per quanto riguarda la sua possibilità, di poter gestire la sua vita, sempre più potere, non vuol dire combattere quello degli altri, perché il nostro ecosistema energetico è tale, per cui ogni posto, ogni posizione, scusate, ha il suo posto, che molto difficilmente andrebbe in contrasto con gli altri, perché vedete spesso, noi per quanto riguarda la nostra possibilità di relazione, prendiamo ad esempio quello che è il mondo animale, quindi c'è il leone, che quando mangia l'altro animale, ovviamente ha un'azione aggressiva, predatoria, e di conseguenza lo mangia, e quindi diciamo, cazzo, il mondo funziona in questa maniera, funziona, che comunque ci sono le prede, quelli che predano, e quindi questa è una legge naturale, purtroppo questa è una visione invece parziale, perché nel mondo animale, ci sono anche tante specie, che vivono tranquillamente, in armonia con gli altri, e in India per esempio, ci sono due tipi di scimmie, ora non so i nomi, però sono una chiara, una scura, quella scura, che ha anche provato a aggredirci, a me a Sonia, e ci siamo veramente cagati in mano, non so se avete mai avuto a che fare con una scimmia, che è così libera, che vi vuole aggredire, perché si muoverà anche in gruppo, con questa dentizione incredibile, che sono quelle cattive, sembrano estremamente aggressive, anche tra di loro, e poi c'è questa specie bianca, più chiara scusate, che sono estremamente pacifiche, e quindi le vedi durante, per la strada, il bello dell'India, io ci ho fatto una croce in India, non ci vorrò mai più andare, però sono andato due volte, però il bello dell'India, che comunque vedi questi scenari, che sono veramente, a riguardare un documentario, se sei dentro una macchina, diciamo al pulito così, non hai problemi non vedi la spazzatura, diciamo se sei, se mi riguardare un documentario, quindi durante, mentre si va per la strada, si vedono questi gruppi, queste scimmie, nere, sempre in conflitto, così, e poi vedi quest'altro, dopo un po', vedi quest'altro, pacifiche, così, che praticamente mangia né trombone, basta, infatti sono il gruppo più grande, non sono molti di ponte di più, e vivono pacificamente, la loro condizione, e loro non sono predatori, loro non sono predatori, loro semplicemente, sono vegetariane, in India c'è tanti alberi, vanno nell'albero, prendono la foglia, se la mangiano, quello che sarà, il frutto che ne so, banane spesso, e di conseguenza, vivono la loro vita, quindi anche noi, potremo vivere una vita, estremamente pacifica, o quantomeno, pacifica forse, non è un termine, che sarebbe giusto usare, equilibrata, bilanciata, senza pensare, che la mia libertà, possa essere garantita, a discapito di quella di un altro, quindi trovare il proprio equilibrio, nel proprio ecosistema, ritornando alla questione, dell'ego, o della pochezza, o della grandezza, con cui io vado a osservare, la mia vita, la cosa determinante, la mettere in rilievo, è che se io sono pusillanime, sono piccolo, sono insapido, io avrò un potere, per quanto riguarda la mia vita, estremamente limitante, ma non perché, non ho potere nel mio ambiente, perché non ho potere su me stesso, perché sono io il primo, che ho un'azione mortificatoria, nei confronti della mia condizione, questo è l'esempio, diciamo che va a descrivere, quella che è la condizione, di una persona, ai minimi termini, riportiamolo all'esempio, di una persona che invece sa, di esistere, che non vuol dire essere re, non vuol dire essere culturisti, non vuol dire essere super mega fighi, fighe eccetera, vuol dire avere consapevolezza, che io sono nel mondo, ma non sono del mondo, cioè che io sto vivendo, un'espressione parziale, fine a se stessa, totalmente insignificante, nei contenuti, ma determinante nell'essenza, esperienza esistenziale. Sono di passaggio in un contesto, in cui posso portare il mio stato di coscienza, in maniera tale da avere un'interazione, questa interazione mi produce un risultato nella mia vita, che va a nutrire la mia eternità, perché tutto quello di illusorio, che io posso fare, per quanto riguarda il fatto di realizzare delle cose, avere tante relazioni sessuali, avere tante relazioni di ogni genere, avere soldi, avere potere, avere fama, avere ricchezza, tutte queste cose, se vanno a nutrire il senso per cui esiste, solitamente noi quando abbiamo queste cose, e rispondono al senso di mettere, portare l'attenzione sul fatto che esisto, mi va anche a ricongiungere con gli altri, quindi sarà una predisposizione verso gli altri, questa condizione, diciamo, di privilegio, che mi sono garantito, quando invece vanno a segnare una discrepanza fra me gli altri, allora a quel punto vanno a nutrire soltanto l'ego, che non è che è peccaminoso, vanno a nutrire quella parte, che mi fa dimenticare che io esisto, perché il problema del materialismo, è che ti fa dimenticare che esisti, inizia ad appartenere a tutta una serie di cose, che hai realizzato, facendosi dimenticare di te, e quindi te cosa sei? Io sono la macchina grossa che ho, e te biondona cosa sei? Io sono le labbra che mi sono rifatte, sono le tette che ho, e la mia facilità nel darla a più persone possibili, perché questo mi garantisce attenzione, oppure mi dà anche la sensazione di poter esistere, perché procuro piacere agli altri, questa è una cosa veramente molto importante, quindi prima di gestire la realtà, costruiamo il personaggio, se sono una persona che vuole diventare ricca, perché finalmente si toglie degli sfizi, è soltanto vittima di una rivalza, questo genere di condizioni non è un peccato di per sé, ha un potere energetico limitatissimo, soprattutto è distruttivo, perché quando le persone realizzano qualcosa, in favore di una rivalza, poi lo distruggano, questa è una cosa determinante, perché io voglio realizzare una cosa, perché io sono consapevole, che sto facendo un'esperienza in questo spaccato di vita, io se sono venuto qui con un patrimonio di informazioni, con determinate caratteristiche, vuol dire che io provengo da un altro tipo di condizioni, dove ho costruito qualcosa, se io conosco i frattali, so che la mia estensione di questo percorso di vita, potrà perpetrarsi, dove il mio patrimonio di informazioni, ne potrò usufruire in un'altra contestualizzazione, se io ho una visione materialistica, dico, vabbè, se no non mi ricordo nulla, allora che senso ha, scusami, se io ho una visione esistenziale, dico, ragazzi, ma se sapere la vita, percorrere la vita in maniera estremamente consapevole, è di per sé fonte di gioia, perché noi, indipendentemente da tutto, l'unica cosa che cerchiamo realmente, è la gioia, che poi gli diamo il nome di tante relazioni, tanti soldi, tante macchinone, tante casone, quello che volete, ma noi rincorriamo la gioia, noi siamo amanti della cultura, perché tutte le volte che apprendiamo, lucidiamo un po' questa nostra condizione altrimenti opacizzata, quindi consapevolizziamo, vi immaginate se voi lavoraste, prima ancora diceste della realtà, sul personaggio, io chi sono? Io sono Dio che sto creando la mia realtà, sono Dio in questo pianeta, in questa condizione, sono Dio di me stesso, non voglio essere Dio anche degli altri, perché non funziona così, io sto creando la mia realtà, perché ognuno di voi, ognuno di noi, se volesse, potrebbe distruggere la propria vita, in tre secondi, vuol dire che non siamo artefici del nostro destino, in maniera distruttiva che è sempre molto più facile, in maniera creativa richiede un po' più di talento, ma ce la possiamo fare tranquillamente, quindi io consapevolizzo di essere Dio nei confronti del mio scenario, consapevolizzo di essere l'artefice del mio destino, e che sono qui per fare un'esperienza, che serve al mio proseguo, al fatto di esistere, da cosa mi devo far guidare, dai risultati? No! Questa è un'altra inculata di sistema, io devo essere performante, ottenere risultati? No! No! È un'inculata. Io mi devo far guidare dalla gioia. Gaet diceva, provare gioia per l'essere umano è inevitabile, è una condizione inevitabile. Se non provate gioia, vuol dire che c'è un errore. Andate a cercare l'errore e rettificatelo. Guidarsi dalla gioia, non guidarsi dai risultati. Ma insomma, basta anche vedere e controvertire quella che è la condizione del sistema che cerca di propinarci. Cosa ci fa prevalere? A cosa dà peso? A cosa dà importanza il sistema? Alle persone più intelligenti? Alle persone di maggiore cultura? Prima era così, eh! Prima una persona di cultura, anche se era uno sfigato dal punto di vista strutturale, era una cosa incredibile. Non guardate Maria Teresa di Calcutta, che potrebbe essere un modello di una persona umile, che poi non la guardate, perché vi posso dire così, vi buttoci anche in altro mito. Io parlo proprio per quanto riguarda le persone di cultura, non so chi c'era all'epoca, erano tutte abbastanza affermate, dire il vero, perché mi viene a mente Pirandello. Pirandello non va sottovalutato, eh! Comunque, diciamo, personaggi o anche, diciamo, boh, non mi viene a mente nessuno. Comunque, prima era messa in valore, una delle cose più ambite era la cultura, era il fatto di sapere, il tesoro, la ricchezza proprio della conoscenza, no? Adesso, invece, la persona viene apprezzata semplicemente sulla base di quello che ha. Quindi, se una persona... In politica, si mostrano dei personaggi che io dico, io dico, va bene, una persona che va a votare ordinariamente non capisce un cazzo, però non li puoi mettere delle persone così, che solo perché sono piazzate, magari sono medio-borghesi, no? Li si dà subito fiducia perché si pensa che possano riuscire a comandarci meglio. E' dei personaggi veramente agghiaccianti. Perché, comunque, noi, diciamo istintivamente, diamo valore e apprezzamento alle persone che sono piazzate nella società. Che non vuol dire che se una persona è piazzata e contestualizzata nella società è un pezzo di merda a prescindere, vuol dire che non deve essere un criterio predominante. Assolutamente da concepire e da considerare in maniera fanatica. Perché se lo faccio in questa maniera, ho subito una grandissima deformazione che il mondo non reagisce a quello che hai, il mondo reagisce a quello che sei. Quindi il sistema farà in modo di darti delle cose anche se non le meriteresti perché in questa maniera ti colloca in un sistema di prevalenza. Quindi nel momento in cui vado a gestire la mia realtà, inizio a esserci. Esserci, esserci. Io ci sono sempre di più, mi sento sempre di più. avverto il mio corpo, la mia condizione come estremamente spessa, consistente. Bisogna stare da soli. Non si spende nulla. Questa è la buona notizia. Dobbiamo stare da soli. Sì, sì, sto da solo, ma ascolto la musica. No. No. Sto da solo, anche mi leggo un libro. Questo va bene, leggere un libro per l'amore del cielo. Sapete, nel libro, quando io leggo, richiamo le mie immagini, creo il mio mondo, sviluppo il mio mondo, che già ripese il mio patrimonio, quindi è molto più di riferimento. Questa è la ragione per cui il libro piace sempre di più del film. Nemmeno quello, però. Da soli. Vai a passeggiare da solo. Vai, vai, oppure, non parlo sempre della passeggiata, vai a fare snorkeling. Conoscete lo snorkeling? Snorkeling. Andate in un posto, bello, dove non avete troppe, diciamo, troppe, troppi problemi, di corrente o di altro, vi mettete la maschera, un boccaio, cannello, si dice in Toscana, andate a notare, no? E vi sembrerà di volare, no? Nel perfetto silenzio, no? E andate lì a guardare le cose, andare lì. Poi c'è anche questo, questo ritorno estremamente ovattato, no? del suono che si restituisce il suono, E poi se è in un'altra dimensione, quando si parla di dimensione, non la terza, la quarta dimensione, ragazzi, non credete a queste stronzate, non credete a queste stronzate, a meno che una persona non vi possa determinare per file e per segno come la quinta dimensione. Sì, ve la può spiegare, dice, ma me la fai vedere? Per vederla bisogna fare il mio corso da mille euro. Le dimensioni sono delle proporzioni che non sono osservabili da questo scenario. Si arriva a osservare da questo scenario in cui noi siamo soltanto quattro dimensioni, che sono larghezza, profondità, altezza, profondità, larghezza e il tempo. Cioè, quindi il tempo in cui questa cosa si svolge. Dall'in poi, la quinta dimensione è una condizione che per quanto possa essere spiegata non è osservabile da questo sistema. Io da questo sistema non lo posso nemmeno interpretare, non posso nemmeno capire perché i parametri, i paradigmi con cui osservo questo mondo non mi consentono. Io riesco a capire un sogno nonostante sia un'altra dimensione perché comunque riguarda sempre le contestualizzazioni che comunque di fatto mi consentono di poter decifrare quello che sto vedendo sulla base dei parametri che ho in questa vita. se io vado in acqua sono in un'altra dimensione cambiano i pesi cambiano le misure cambiano le proporzioni cambia tutto però nel momento in cui io riesco a guardare un corpo che si muove nell'acqua lo posso osservare attraverso i parametri di questa dimensione. Quindi anche per quanto riguarda la quinta la sesta la settima dimensione per favore non credetete a queste cazzate perché sono da mettere in tutte quelle cose che di fatto non hanno dei riferimenti stabili dei perimetri di orientamento che semplicemente a me mi fanno sentire figo se parlo di queste cose perché sono cose che gli altri non possono capire perché non esistano e di conseguenza questo fanno di me un figo questa è manipolazione non vi fate manipolare guardate la magia del mondo non va cercata in quello che di fatto è nell'oltrecoscienza la magia del mondo è in questo il paradiso è questo se però una persona prova dei disagi avrà comunque un'allenazione nei confronti della sua vita e lo chiamerà diciamo estensione approfondimento non so io che cosa però di fatto sarà sempre un tipo di condizione che sarà in riferimento a quella che io vivo anche l'astrale anche l'astrazione è un altro tipo di dimensione ma io c'è un momento del mio viaggio astrale dove ho visto delle cose che non sono riuscito a capire a un certo punto poi si è dissipato tutto è come se i parametri di percezione di questo contesto dimensionale se fossero ordinati un attimino ma ho continuato a non capirci un cazzo ho sentito i gridolini di bambini felici perché il gridolino di bambino felice mi rende felice bambini buoni precisato anche perché i bambini a volte possono essere anche un po' diciamo provocatori però alla fine io non riuscivo a capire nulla un casino quindi è molto importante considerare la nostra eternità come un'espressione osservabile sulla base dei parametri che abbiamo ma che è sempre solo determinata a questo mondo io posso soltanto andare un po' fuori dei perimetri di questa esistenza ma sempre consolidando e considerando quelli che sono i parametri di questo mondo di queste contestualizzazioni di riferimento è il paradigma quando noi iniziamo a pensare da persona libera rinunciando alle sicurezze si incominciano ad aprire dei file non si parla tanto di anima prendi l'anima lasci l'anima ti prendono l'anima quando tu sei qui per fare delle cose e ne fai altre per convenienza o per paura è lì che stai corrompendo la tua anima l'anima da intendersi come la nostra vera essenza che tutte le persone hanno tutte le persone hanno sicuramente ne può essere dissociato e di conseguenza può non essere manifesta però è veramente molto molto azzardato dire che qualcuno non ha l'anima questo è un vecchio trucco determinare delle discriminanti che nessuno può indagare solo a fiducia del leader della setta che costruisce a l'anima Grazie a tutti.